Salve, sono il dottor Marini, medico gastroenterologo e medico di segnale. Sono oggi ospite al congresso a Bologna sull'epigenetica, sull'S-Drive. Ho tenuto una relazione sulle disbiosi intestinali e sulle conseguenze che possono avere a livello sistemico sia sull'apparato digerente, sia sull'acute, sia sul sistema nervoso centrale. La cosa che ho voluto stressare è che bisogna andare a cercare la causa di queste patologie, non andare a sopprimere i sintomi con delle medicine semplicemente soppressive. Ho stressato anche il discorso dell'uso dell'S-Drive, che per me è stata una tecnologia chiusa da due anni, rivoluzionaria perché mi ha dato una serie di strumenti per poter arrivare a una diagnosi precisa, per poter usare degli integratori precisi, perché la diagnosi viene fatta da un punto di vista clinico, ma l'integrazione poi che dobbiamo fare e tutti i fattori epigenetici che possono aggravare una malattia o causare una malattia, l'S-Drive ce li svilla tutti. Quindi in modo semplice riusciamo ad avere dei dati incredibili che onestamente con la medicina tradizionale difficilmente riusciamo ad avere.